Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Finita la guerra le donne non c'erano più perché le hanno usate hanno avuto degli ideali però le hanno usate perché con il detto ma le donne non le considero niente non sono qualcosa che possono passare dappertutto vedono una donna non ci danno valore allora questo vuol dire denigrare e demoralizzare il sesso le donne il sesso femminile che non so se mi ricordo se è stato pertinente se non ci fossero stato le donne nel periodo della guerra nel periodo clandestino assalissero ancora sotto i fascisti le donne assieme ai partigiani a